Ciao a tutti ragazzi e sono qui con immenso sommo e fantasmagorico piacere per annunciarvi che sono la prima rivenditrice in italia di Low Pro Dex, dove abbiamo un pacchetto con presenti 20 Dex e 10 tuning packs con i tracks, i bushing e tutte quelle cose e visto che sono maniacalmente curiosa di aprirlo allora vediamo un po' dov'è che lo apro, lo apro con violenza cercando tutto lo scotch è possibile ok e siamo quasi ragazzi a diete partenza lo apro hello valentina in your order bellissimo dopo aver potuto dire tutto lo scotch possibile oh yeah oh papà c'è dentro la carta che c'è a te la stoffa lì quella allora valentina massa 20 Dex più 10 performance packs 5 family shape da 3,1 4 family shape da 2,9 5 tiramisu shape da 3,1 e 6 tiramisu shape da 2,9 che adesso andrò a mostrarvi oh mio dio un quintale e mezzo di adesivi io adoro gli adesivi Low Pro quindi sappiate che se comprate una Low Pro troverrete riempiti di adesivi Low Pro qui abbiamo i performance pack black 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 cromo o black o cromo penso che siano 5,5 comunque quindi con i tracks i bushing tre strisce di Low Pro Tape e adesivi Low Pro non so dove metterlo aiuto ah morbidone Dex queste sono family shape 2,9 le grafiche sinceramente non mi ricordo i nomi ma ve le mostro questa è da 2,9 questa è da 3,1 questa è una tiramisu shape da 3,1 grafica Low Pro la più classica ce l'ho anch'io 3,1 family shape adesso mi divido le family dalle altre un'altra 2,9 family shape una tiramisu 3,1 sempre con grafica Low Pro una Axe Rams 2,9 tiramisu shape una grafica Low Pro tiramisu shape 2,9 una family shape grafica Low Pro 3,1 una Axe Rams tiramisu shape 2,9 una tiramisu shape 2,9 il bello è che ci sono scritti sopra ma non li leggo i nomi è Public Enemy ditemi voi come sto messa tiramisu shape 2,9 The System poi dovrò fare le foto tutte e metterle sul sito una family shape 2,9 The System una Squirt of Blood che anch'io ho family shape 3,1 io ho la 2,9 però spettacolo troppo bella sta dentro e sempre Squirt of Blood però tiramisu sempre 3,1 un'altra Public Enemy tiramisu shape 3,1 una Low Pro una Low Pro family shape grafica Low Pro logo series una tiramisu shape Squirt of Blood 2,9 una family shape Squirt of Blood 2,9 aiuto stanno cascando tutte una Natural Mystic grafica Axe Rams tiramisu shape 3,1 and this is the end altra fantastica cosa mordigosa non potete vedere nel pacco non vi è più nulla vediamo se riesco a richiuderlo questo conto Redex e vedo quali poi se ce ne sono più di 20 alcune andranno per il contest ringrazio sentitamente Andre per questa bellissima possibilità di essere rivendettrice italiana di Low Pro vi dico ordinate perché queste sicuramente volevano via thanks Andre